Io qua ho le biocassette che tu puoi ordinare o sul sito della Caritas direttamente o qua abbiamo anche un chat per le biocassette a Caslano che in questa zona siamo gli unici, gli altri sono Lugano e l'intorno e così tu vieni qua, hai il tuo ordine, mi dici il tuo nome, io ti do la tua cassetta ogni tanto ci sono più che una varietà, cioè una cassetta gialla e una verde questo punto tu puoi dirmi quale vuoi di solito e ogni tanto come vedi qua ci sono degli extra che questa settimana sono delle buonissime patate proprio di montagna che durano un'eternità, non c'è vogliono, sono geniali poi c'è chi vuole anche la cassetta perché ogni tanto fa un po' di acqua chi lo prende di solito tu ha solo il sacchetto, prepara il sacchetto, te lo do in mano ed è fatto poi per le ricette anche sul sito della Caritas ci sono già tanti ma io so che anche tu raccogli ricette quindi andiamo bene, troppo bene Questa settimana super rappanelli, insalata asiatica, profumo profumo senti il profumo, si sente da lontano la verza e poi la lattuga verde questa settimana, tutto super fresco croccante si sente proprio la differenza tanto ti trovi anche un ammazzetto di aromatiche e si sente proprio, hanno un profumo fresco vengono raccolte alla mattina, poi me lo portano verso mezzogiorno io di solito apro ciala una, una e mezza non mi metto anche d'accordo chi vuole passare dopo o prima, tutto senza problemi abbiamo aumentato tantissimo la nostra clientela, guarda le scatole vuote adesso prendi una cliente dai, adesso arriva la mia, vediamo come funziona la cosa non tagliarmela fuori, è simpaticissimo adesso ho un filmato di una cliente di Ocassetta wow le verdure fanno bene, mangiatela ok no ma no, veramente lei viene da Aranno li conosciamo, li conosciamo ci conosciamo non so che li conoscete perché lei ha fatto il tuo sentiero sei pronta a partire? è pronta, è pronta, sì, qualche giorno di vacanza